1970, un film si impone all'attenzione mondiale ed è l'America di Hitchcock, maestro del brivido, che gli decreta il trionfo con un incasso di 2 milioni di dollari nelle prime settimane di programmazione. Il film è l'uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento. Oggi Dario Argento firma... Il gatto a nove code. 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 Il gatto a nove code.